Herrera, Riva, Maffioletti, Ferrari, Neri e Rontani, sei atleti per quattro posti, Herrera decisamente al comando, 7.45, corso senza spingere alla parte finale, ottima impressione, testata da Ionelli Serrera. Il miglior tempo resta ovviamente il 7.37 di Irene Siragusa nella terza batteria, nella batteria precedente a questa. Herrera, Abreu, Maffioletti, Neri e probabilmente Riva si prendono ai primi quattro posti. Sei atleti per quattro posti, dicevamo, non era un'impresa titanica numericamente parlando, superare il turno, ma bisogna comunque correre forte, è stata una batteria piuttosto rapida. A proposito di Irene Siragusa che detiene attualmente il miglior tempo...